L'Italia sta lavorando a un libro bianco della difesa che parte dalle minacce e da quelle che sono quindi le domande di sicurezza e di difesa. Sulla base di questo arriverà a definire esattamente quali sono le necessità. Però voglio ricordare che l'Italia, ed è evidente anche attualmente nelle principali missioni Nato, ha sempre dato un contributo molto alto in termini qualitativo e quantitativo. Pensiamo a quante persone sono state in Afghanistan, pensiamo a quante persone abbiamo ancora in Kosovo, quindi devo dire che l'Italia ha sempre fatto la sua parte. Poi noi pensiamo che si possa efficientare la spesa, certamente non mettendo a rischio la nostra sicurezza.